Comunque ragazze, oggi mi sono resa conto che la maggior parte degli italiani non ha ben compreso o non sappia cosa significhi e cosa comporti la fase 2, ovvero la fase di riapertura. Perché ok che si può uscire ad incontrare persone, familiari, amici o colleghi, però non si possono assolutamente fare assembramenti. Su Instagram vedo party, feste di compleanno eccetera, invece è necessario rispettare le regole, ovvero il distanziamento sociale di almeno un metro e l'obbligo della mascherina che è fondamentale. Perché non so se l'avete capito che una ricaduta potrebbe farci tornare a mettere a rischio non solo la nostra vita ma la vita di tutti. Chiedo a voi cosa ne pensate? Riusciremo ad essere abbastanza responsabili? Ragazze, allora grande richiesta, ho pubblicato un altro TikTok con i miei genitori, ovvero i normali obbligati a fare i TikTokers. Vi lascio il link, fate i suoi pap e vi guardo tra i commenti e metto qualche like.